Mi fanno il generale e mi perdono tutti i suoi iniverevoli peccati. Dopo tre mesi, Toba, felice, sobrio e potente a casa, apre la porta, la moglie lo guarda, fa un passo indietro e dice, io, un muerto dentro casa non lo voglio. E questa che state per ascoltare, la canzone del morto lì. Se che ne vissi, facciamo due cori. Uno lo dedichiamo ai morti vivi e l'altro ai vivi che per loro fortuna sono vivi. Lo scolo del morto vivo fa così. E non sta, ueto? 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 Lo vivo che è vivo invece fa così. La rumba sempre sale meglio con le palmiti, con le mani. Identiamo sia solo qui con noi. Uno, due, tre, che mi gusta la villa. Uno, due, tre, vi gestione a così, vi gestione a sovi diss architecturali. Uno, due, tre… Che ci siamo insadeni! Che ci siamo insadeni! Che ci siamo insadeni! E non sta, apparecremo. È nesta, 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 è nesta. Ay o nah i yol Ambona cenale pen disorder Ammi Papa e cioccolate Gli pagano sin salari E si pensano dove s mache se lo vanno a mechau Una semana a mie gu��ia il delgiorno non si può Posa guardò a su casa todilo down Quino stava muerto che doveva Voi venire sul di nuovo vieni a troppo giro Noi non sono un ruolo come farsi Non un luogo come l'ho Holdo il sábio la novella Prendgo del bosone Lo ha venito eterno Un colpire E non sono stato morto! Chezza! E non sono stato morto! Chezza! E non sono stato morto! Come va a stopparciare! Chezza! E non sono stato morto! Chezza! E non sono stato morto! Chezza! Chezza! K barnese! Chezza! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.